Presentata la Confartigianato di Ancona, la manifestazione Food & Drink che si terrà il prossimo 29 e 30 settembre nel centro d'Orico. Saranno coinvolte oltre 40 attività che proporranno un menù particolare, un viaggio tra i sapori, non solo italiani ma anche quelli internazionali. Andiamo a sentire le interviste. È un evento Food & Drink particolarmente atteso e che sta a cuore a Confartigianato perché ha un valore simbolico. Mettere insieme più di 40 attività che lavorano per promuovere il brand Ancona e promuovere la loro tipicità è per noi un valore inestimabile. Come Confartigianato quindi organizzare un evento che va da mare a mare, un evento diffuso che mette in eccellenza il saper fare è sicuramente un valore importante. Coinvolgere i giovani e non solo con valori sani è uno degli obiettivi di Confartigianato. L'obiettivo dell'iniziativa è portare i cittadini di Ancona nel centro città, riuscire a dare continuità a tutti gli eventi che in questo momento stiamo organizzando assieme all'altra associazione del Comune di Ancona perché ci dobbiamo riappropriare di zone dove ultimamente abbiamo fatto poco. Noi siamo riusciti a mettere al tavolo più di 39 attività e quindi è uno sforzo importante fatto dalla struttura Confartigianato ma è quello che noi pensiamo, le attività devono collaborare tra loro per fare iniziative importanti. Sono fondamentali, la collaborazione che abbiamo aperto con l'associazione in categoria è vitale per Ancona. Vedete che nell'ultimo mese e nelle prossime settimane ci sono eventi che si susseguono giorno dopo giorno, tutti i fini settimana e grazie soprattutto appunto a questa collaborazione tra amministrazione comunale e associazione in categoria perché pubblico e privato devono correre allo stesso modo, fianco a fianco per riuscire a offrire alla città delle offerte e dei contenuti importanti. Food and drink appunto porta anche un messaggio particolare, un messaggio integrazione, un messaggio di una cucina adatta a tutti i gusti e soprattutto credo anche un messaggio verso i giovani, quindi un altro evento che si addice sicuramente a un contesto giovanile come quello che vogliamo riportare ad Ancona.